Ciao e benvenuti sul canale per le anticipazioni dal 29 al 31 maggio della promessa. Negli episodi che vedremo su canale 5, Hana si troverà a tu per tu con il suo passato, un incontro sconvolgente che porterà rivelazioni e cambiamenti significativi nella sua vita. Abel scopre la falsa gravidanza di Ximena e la moglie di Manuel si troverà costretta a confessare il suo segreto ma non si darà per vinta e tenterà un gesto estremo per continuare a ingannare tutti. Resta fino alla fine se non vuoi perderti questo e altri sensazionali colpi di scena. Come sempre ti chiediamo un piccolo favore. Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Un semplice gesto che a te non costa nulla ma che ti assicurerà di ricevere nuovi video in anteprima e per noi rappresenta un grande sostegno. Grazie. Maria Fernandez comunica a Hannah il ritorno di Ramona a Lujan. Ramona è la donna che si è presa cura di Hannah da giovane. Hannah decide di cercarla per scoprire di più sul proprio passato e sull'omicidio di sua madre. Cerca di convincere Curro ad accompagnarla ma sarà Maria Fernandez ad essere più coinvolta nella ricerca. Dopo aver consultato Simona e Candela entrambe scoprono dove potrebbe vivere la donna. Manuel dice a Mauro che Abel non è facile da gestire ma tutti stanno facendo del loro meglio per trattare bene il suo amico. L'uomo riesce a far ragionare Hannah riguardo ad Abel. Hannah si impegna a cercare di riavvicinarsi al medico ma lui non cambiava atteggiamento rendendo impossibile il dialogo. Una nuova discussione causata dalla gravidanza di Simena rende l'atmosfera ancora più tesa. Nel frattempo Maria prepara un trucco per Salvador con l'intenzione di fare esaminare l'occhio ad Abel nonostante il giovane continui a rifiutarsi. Anche se l'ex soldato reagisce violentemente il medico ha buone notizie per lui. Potrebbe recuperare la vista. Maria inoltre sostiene Hannah nel cercare di scoprire il motivo del ritorno di Ramona a Luján. Ramona sembra essere la persona che può aiutarla a scoprire la parte del suo passato che non conosce e che le manca per mettere insieme tutte le tessere del puzzle. Vedremo se Ramona avrà le risposte di cui Hannah ha bisogno per scoprire chi è il padre di Curro e cosa stesse proteggendo Dolores a costo della vita. Martina insiste sul fatto che non vuole sposare il figlio del duca di Carvajalici Fuentes e parla con Jimena e Catalina che cercano di farle vedere i vantaggi di sposare il giovane duca. Martina però è sicura di non volerlo e farà di tutto per evitare il matrimonio chiedendo pazienza a Curro con cui nel frattempo si è riconciliata. Tuttavia non sa come gestire il loro rapporto né se dovrebbero rivelarlo alla famiglia. Simona e Candela sono determinate a scoprire il segreto di Carlos e gli tendono una trappola. Le cuoche ottengono il risultato sperato e il maestro non ha altra scelta che confessare un oscuro segreto legato a sua figlia e che tiene nascosto da molto tempo. Petra si impegna a ottenere un lavoro per suo fratello alla promessa e ci riesce grazie alla Marchesa di cui abusa della fiducia nonostante l'opposizione di Romulo e Pia. Per quanto riguarda Cruz la tensione con sua cognata Margarita aumenta e la Marchesa non esita a farle capire che non ha alcun problema a dichiararle guerra. La presenza di Fernando e Margarita alla promessa crea un clima teso ed è evidente per tutti. Non hanno alcuna intenzione di rinunciare al matrimonio nonostante gli sforzi dei Marchesi. Dopo aver praticamente dichiarato guerra ai loro cognati ora aspettano solo di ottenere lo status sociale che credono di meritare quando Martina sposerà il figlio del duca di Carvajalici Fuentes così da rendere la vita impossibile a Cruz e Alonso. Ximena sfrutta la sua condizione per lamentarsi della tensione nei corridoi del palazzo e prende una decisione sul suo futuro che coinvolgerà tutta la famiglia segnando un altro punto contro Cruz. La sua intenzione è quella di lasciare il palazzo insieme a suo marito con la scusa di doversi riposare da un ambiente che mal sopporta e a tale scopo intendono trasferirsi a Madrid. Ana cerca nei suoi ricordi di bambina dove si trova la capanna di Ramona dopo aver raccolto indizi con l'intenzione di visitarla ma per lei è tutto molto confuso quindi dovrà cercare in tutta la tenuta. Come sempre Maria Fernandez si impegna ad aiutarla e entrambe si avvicinano sempre di più alla misteriosa donna. Grazie ai loro sforzi Hana sente di essere sempre più vicina a scoprire i segreti del passato. Per quanto riguarda Salvador acconsente a far visitare l'occhio per sapere se c'è qualche possibilità di recuperare la vista anche se all'inizio il giovane si era opposto categoricamente. La notizia porta a un nuovo avvicinamento di Salvador con Lope e Maria Fernandez ma comporterà anche un chiarimento dei suoi sentimenti. Pia torna dopo aver testimoniato contro Gregorio e torna felice poiché sembra che l'uomo riceverà la massima pena grazie agli sforzi della governante accompagnata da Romulo. Simona e Candela scoprono la verità dietro l'assenza e i lividi del maestro Carlos dopo che questi aveva detto in un primo momento che erano dovuti a una caduta dopo aver bevuto troppo. Ora Carlos spiega alle cuoche come sua figlia sia diventata il suo peggior nemico. Le cuoche promettono di mantenere il segreto ma non possono evitare di essere preoccupate. Infine Petra riesce a far assumere suo fratello Feliciano alla promessa come servitore a tutti gli effetti qualcosa che non sarà visto di buon occhio dal resto del servizio che vedrà come l'influenza della cameriera sulla marchesa ha portato a questo incarico per il ragazzo. La decisione di Simena colpisce come un fulmine a ciel sereno tutta la famiglia ma anche il personale soprattutto Hana. Quando Simena comunica la notizia della partenza la ragazza non riesce a crederci. La cameriera prova tristezza quando scopre le intenzioni della coppia di trasferirsi a Madrid. Sebbene nasconda il suo disappunto si concentra nel continuare l'indagine sul suo passato. Nessuno capisce davvero la decisione di Simena anche se Cruz sospetta che il rapporto teso tra lei e sua nuora sia il motivo della repentina partenza del figlio dalla tenuta. Se c'è qualcosa che allevia Ana sorpresa dal fatto che Manuel non abbia ancora dato la notizia è che forse l'allontanamento potrebbe essere il miglior rimedio per dimenticare il signore e inoltre si libererebbe dalle attenzioni di Simena. E se Simena se ne va anche Abel lo farà. Per la prima volta il medico riconosce il suo lavoro come cameriera anche se lo fea con una certa ironia e Hana dubita che il suo complimento sia sincero e sentito. Il medico però comincerà a cambiare percezione su Hana quando Maria Fernandez le parla di tutte le sue virtù. Anche Curro decide di lasciare temporaneamente il palazzo per chiarirsi le idee riguardo a Martina. Per la nipote di Alonso sarà senz'altro una notevole mancanza non poter contare sul suo sostegno per alcuni giorni. Martina riceve una chiamata da Antonio de Carvajal, il suo fidanzato imposto dai genitori. La situazione diventa abbastanza tesa quando parla con il ragazzo e lui comunica le sue intenzioni di procedere con il matrimonio. Martina cerca di evitare l'argomento ma il loro incontro sarà imminente e inoltre la giovane deve fare i conti con la pressione di sua madre che vuole conoscere ogni dettaglio. Per Pia le domande di Cruz su Gregorio la mettano in una posizione difficile. Deve gestire il dubbio su chi sia il padre del suo bambino e ora oltre a tutto quello che ha vissuto teme che la verità possa venire a galla. Come abbiamo visto Feliciano è stato assunto come servitore grazie all'intervento della Marchesa ma le tensioni continuano a crescere mentre Petra crede che Romulo e Pia gli affidino compiti pesanti più del necessario. Una situazione che porta a nuove discussioni tra loro. Pia lascia intendere senza mezzi termini che non farà nulla per aiutare Feliciano che vede costantemente il disprezzo dei suoi colleghi. Per quanto riguarda le cuoche trovano una soluzione insolita al problema di Carlos con la sua spietata figlia che rende la vita impossibile al maestro. Fernando e Margarita continuano a spingere affinché Cruz e Alonso non si intromettano nel destino di Martina ma loro non li ascoltano. Nel frattempo Abel confessa a Pia che non è da escludere che l'avvelenamento subito da Gregorio possa aver danneggiato il piccolo essere che porta in grembo. Infine Ana trova finalmente Ramona grazie a Maria che le fornisce il suo indirizzo ma avrà una spiacevole sorpresa. Ramona è molto malata e forse non potrà offrirle le risposte che cerca. Ana sviene vedendo le condizioni in cui si trova la donna. Ramona ha urgente bisogno di cure e rischia di perdere la sua vita. Pertanto Ana chiede aiuto alla sua fedele amica Maria Fernandez e insieme cercheranno di prendersi cura di lei a ogni costo. Tuttavia anche Maria ha altri problemi da affrontare poiché Salvador ha finalmente visitato l'oftalmologo amico di Abel e porta due notizie una buona e una cattiva anche se tutto indica che l'occhio del ragazzo potrà guarire. Nel frattempo Cruz continua a cercare di guadagnarsi l'affetto di Martina cosa che sembra riuscire. Simona e Candela accolgono Don Carlos nelle loro stanze perché possa riprendersi dai maltrattamenti subiti dalla figlia. Ora dovranno fare del loro meglio per nascondere la situazione e cercare di convivere tutti e tre insieme. Il loro piano non è affatto semplice poiché Petra è vigile nei corridoi del servizio e le cuoche sono preoccupate non sapendo che Donna Petra ha altri pensieri per la testa che riguardano il trattamento riservato a suo fratello alla promessa. Infatti Feliciano non ce la fa più, non smette di lavorare e deve sopportare l'atteggiamento dei suoi colleghi. Esploderà per la prima volta con Ana e Teresa che comprendono il giovane e lo tranquillizzano mentre Petra ha un'altra discussione con Romulo che non conta sul sostegno di Pia e che non può fare a meno di rimproverarla per aver causato questa situazione. Qualcuno comincia a sospettare degli spostamenti di Hana, si tratta di Abel che si sente in dovere di chiederle spiegazioni. Ma sorprende la giovane offrendo il suo aiuto nel curare Ramona. Nel frattempo Hana è ancora ferita dall'annuncio di Manuel e Ximena della loro partenza per Madrid e lo fa capire a Manuel quando hanno un incontro privato. Quello che Ximena non immagina è che questa decisione metterà suo marito contro di lei oltre ai suoi suoceri. Martina affronta i suoi genitori perché si sente appoggiata dai suoi zii e insiste nel non volersi sposare anche se riconosce che Curro è ogni volta sempre più rassegnato a cedere. Curro torna dalla sua breve assenza per questo motivo. Fernando e Margarita vogliono fuggire dalla promessa il prima possibile portando con sé ovviamente Martina ma i loro movimenti rimangono un mistero per Lorenzo che incarica un membro del servizio di seguirli da vicino e scoprono che hanno iniziato i preparativi per tornare nella capitale inviando un paio di lettere. Lorenzo e Cruz sono preoccupati nel vedere che una di esse è indirizzata a Beatriz e Cruz nega quando Margarita scopre che sta cercando di manipolare Martina ma non sarà l'unico fronte aperto della Marchesa che cercherà anche di dissuadere Ximena dall'idea di trasferirsi a Madrid con Manuel. Feliciano ancora non riesce a trovare il suo posto alla promessa trova solo supporto e fiducia in Teresa. Anche se ha scoperto qualcosa di sospetto le cuoche nascondono la presenza di Carlos. Petra avvertita dal fratello della possibilità che ci sia un uomo nella stanza delle cuoche prenderà provvedimenti per chiarire la questione una volta per tutte. Infine Salvador è distrutto dopo aver scoperto che potrebbe salvare la sua vista ma il costo dell'operazione agli occhi è molto alto. Lope e Maria Fernandez cercano di consolarlo incoraggiandolo ad accettare la realtà e confidando che raccoglieranno i soldi necessari per l'intervento chirurgico. Ximena si trova più sola che mai quando nessuno appoggia la sua decisione di trasferirsi a Madrid, neanche suo marito. La situazione peggiora ulteriormente quando Abel, dopo aver esaminato la sua condizione di salute, lascia intendere che non è incinta e che tutto sia frutto della sua mente. Manuel e Ximena avranno una discussione accesa e Abel cercherà di calmare gli animi finendo per invitare la suocera di Manuel al palazzo affinché trascorra qualche giorno con sua figlia. La madre di Ximena la presserà costantemente sapendo che sta nascondendo qualcosa e non si spiega altrimenti il suo desiderio di trasferirsi a Madrid, che lei non condivide affatto. La ragazza scoppia davanti all'insistenza della duchessa dello Sinfantes, rivelando il suo grande segreto, il quale colpirà la madre come un fulmine a ciel sereno. Madre, non sono incinta. Nel frattempo Manuel sarà testimone dell'avvicinamento tra Abel e Hanna, mentre il suo matrimonio diventa sempre più difficile. Curro e Martina pianificano di sposarsi segretamente, è l'unica via d'uscita per la coppia, che vede Fernando e Margarita portare avanti il loro piano. Tuttavia, all'ultimo momento Martina non si fa trovare, scomparsa dalla tenuta, mentre tutti la cercano senza successo. Curro e Lorenzo sono disperati dopo aver contattato Beatriz, la loro unica speranza per sabotare i piani di Fernando e Margarita. Romulo e Pia chiederanno spiegazioni a Simona e Candela riguardo a quanto accaduto con Carlo Sorengo, ma Petra riceverà una severa reprimenda da parte di Cruz per lo stesso motivo, in quanto l'ha fatta sembrare ridicola di fronte al resto del personale. Le cameriere e i lacche si impegnano a lavorare fuori orario per raccogliere i soldi necessari per l'operazione di Salvador, evitando sempre che lui scopra cosa stanno facendo. Tuttavia, il ragazzo assiste a una scena tra Lope e Maria che lo lascia sconvolto quando li vede abbracciati. La gioia di Abel e Hannah svanisce quando la salute di Ramona peggiora nuovamente e la cameriera soffre per il destino imminente della donna. Abel farà del suo meglio per far recuperare la salute a Ramona, il che porterà la coppia a trascorrere sempre più tempo insieme. In una di queste occasioni, Manuel sarà testimone di un momento intimo tra i due, scatenando la sua gelosia. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il seguito» nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!